buonasera a tutti come promesso iniziamo la live così per sentirci un po scambiare due chiacchiere vedere quali possono essere i dubbi su questo altro prodotto che stiamo andando a testare oggi parliamo di resina artistica in questo caso è l'art pro deluxe che fornisce la resin pro e che di solito viene utilizzata per creare dei quadri io già ho fatto qualche prova in precedenza per verificare la fluidità e la lucentezza dei colori e come potete vedere il tutto funziona a questo punto lasciando da parte la mia venina artistica che non è sicuramente bellissima come la vostra io vi spiegherò un po quali sono i procedimenti da utilizzare ciao sonia da utilizzare per far sì che questa resina dia il massimo di risultati quindi noi andremo a vedere proprio questo andremo a vedere esattamente come va usata quali accortezze usare quali sono i tempi e anche la tipologia di colori che vanno mischiata questo tipo di resina aspettiamo ancora qualche secondo che arrivano gli altri vedo 16 persone in diretta 17 penso a questo punto che possiamo iniziare allora partiamo dal fatto che diciamo subito che cos'è questa resina è una resina sempre bicomponente se andiamo a guardare il rapporto componente a componente b è un 100 a 70 ed è una resina che non è adatta ad alti spessori infatti qui vi dice un centimetro onde vi da evitare un aumento della temperatura questa resina che di solito si usa per spessori di 2 3 mm per fare dei disegni artistici ma può anche essere utilizzata per altre applicazioni se volete anche per gli eventuali monili la caratteristica di questa resina è che è una resina non molto fluida non essendo molto fluida scivola difficilmente sulla superficie che andiamo a preparare e ci garantisce una compattezza dei colori se rispettiamo ovviamente le le dosi consigliate e i tempi di immissione all'interno sulla sul nostro sulla nostra tavola io per farciò ho preparato un paio di tavole che vi faccio vedere sono delle tavolette di legno che io avevo qui da me il laboratorio sono degli scarti di legno quindi niente di che ha sulle quali ho passato un nero opaco questo per chiudere eventuali pori e per garantirmi una superficie omogenea prima di utilizzare questo vi dico anche che può essere utilizzata su qualsiasi altro tipo di materiale artistico dalle tele dei pittori anche al compensato ai quadri a quel che volete voi l'importante è che passate ciao dania che passate sulla superficie un materiale che copra i pori questo onde evitare che la resina inizi ad essere assorbita e a quel punto rischiate che vi fa tutti i puntini ho già fatto anche questa prova ve la faccio vedere perché come voi come ben sapete io non nascondo niente a nessuno vi faccio vedere i puntini e l'errore che ho fatto in passato è esattamente qua se voi vedete questa superficie è a buccia d'arancia guardate i puntini questo perché perché io sulla tavolozza blu non avevo passato nulla prima quindi si è assorbita se vedete questa è nettamente diversa su questa avevo passato un archilico trasparente quindi come voi sapete io faccio vedere tutto ciao patrizia faccio vedere le prove faccio vedere gli errori in maniera che vi rendete conto che qui nessuno è mago ma le cose vanno fatte con la dovuta cautela per ottenere il risultato che chi ci vende il prodotto ci garantisce delle indicazioni vi posso dire che io l'ho provato e dopo due tre prove sbagliate sono arrivato al loro risultato a quello che ci hanno che ci dicono loro andiamo avanti mettiamo da parte la nostra tavoletta e iniziamo a preparare la resina io ho preparato già i miei bicchieri facciamo subito la preparazione della resina così non perdiamo tempo iniziamo con il componente a a questo punto ne mettiamo se riuscite a vedere è molto denso grazie martina saranno bellissimi lo stesso io preferisco sempre far vedere tutto se voi vedete è molto gelatinosa ed è quello che a noi ci aiuta nella nello stendere poi i colori a differenza delle altre resine che sono percolate sui monili noterete che quando andiamo a unire due colori questi stanno ben separati quindi abbiamo tutto il tempo di lavorarli non c'è il problema che corriamo con i monili che unendo i colori subito si vanno a mischiare allora qua abbiamo fatto i primi 100 facciamo subito i secondi 100 così io scusate ma nel frattempo le parlo davanti a voi così vi faccio vedere un po' rosario e benvenuta quindi vi dicevo rapporto 170 a differenza delle altre resine che usiamo per i monili che di solito sono 160 viscosità al massimo come vedete sta scendendo a filo io la bottiglia ce l'ho in verticale quindi aspettiamo un attimo che arriviamo ai nostri 100 e inglobiamo il componente b quali colori andiamo utilizzare per questo per questa prova io in realtà come voi ben sapete provo tutto non mi fermo a un solo tipo di colore non mi fermo nemmeno se il produttore dice non si possono provare perché io devo per forza provare tutto e vi posso dire che più o meno i colori funzionano tutti perché è una resina se funzionano per i monili funzionano anche qui ovviamente calcolate sempre che ciao Natalia Andrea ruolato bene calcolate sempre che i colori vanno miscelati in base alle vostre esigenze quindi usare qua un vitrail per avere un effetto trasparente non è il massimo visto che cerchiamo di andare a fare un quadro molto colorato allora abbiamo detto arriviamo a 70 vediamo se riusciamo a andare fuori dal bicchiere ecco qua siamo a 70 facciamo anche l'altro arriviamo a 70 e abbiamo pronta la nostra resina ok fortunatamente il componente B è leggermente più liquido altrimenti stavamo otta la sera qua ok e ci siamo ci siamo tolti questo dente possiamo andare avanti cosa bisogna fare dopo aver mescolato la resina e aver preparato il tutto la cosa importante da fare è prepararsi la base di lavoro perché perché questo è un lavoro che ovviamente vi costringerà a far scivolare la resina sulla vostra base quindi ciò che c'è sotto diventerà sicuramente pieno di resina a quel punto potete scegliere di fare due cose o vi preparate una tavola come ho fatto io e spero di poterla mettere qui senza far danno con degli spessori così avete modo vediamo un po' se riesco a farla entrare si diciamo che la tavola entra solo che non vorrei faccia molto danno quindi vi preparate una tavola come questa mettete su il vostro pezzo e andate a lavorarlo iniziamo intanto a mescolare la resina perché penso che questa tavola sia forse eccessiva per la nostra ripresa video e allora facciamo così questa la togliamo meno male che siamo in diretta e non stiamo truccando niente faremo così male che va sporchiamo qua e poi pulisco con l'acetone quindi i nostri bicchieri la nostra paletta al fine di evitare che qualcuno ora mi rimprovera perché tanto lo farete sicuramente mi metto i guanti e iniziamo Patrizia non fuma perché non fuma a me non è mai fumato la resina artistica si sarà tolta il vizio lo spero ma comunque quando l'ho fatta io questa è la prima live che faccio sulla resina su questo tipo di resina ti posso dire che non ha mai fumato nemmeno quando ho fatto le prove se tu le dosi le misceli bene ciao Miriam se le dosi le misceli bene ti assicuro che questa resina non fuma io vorrei dirvi una cosa vorrei essere forse molto drastico sono due le cose importanti da capire che se noi rispettiamo le dosi rispettiamo i tempi e rispettiamo le temperature la resina non fuma se noi evitiamo di far casino mentre mescoliamo la resina non ha bolle ciao Monica siamo noi che creiamo le bolle e siamo noi che la facciamo bullire la resina da sola non le fa queste cose quindi qualsiasi errore esce fuori da una errata catalizzazione o da una resina gommosa o da quello che volete voi capita perché noi abbiamo sbagliato qualcosa voi immaginate soltanto se una persona fa un tavolo river table di 4 metri e la resina inizia a fumare lo sapete quanti soldi perde? noi parliamo di 30, 40, 50 kg di resina non stiamo parlando di 30 euro quindi quel che gli posso dire a me la resina ha fumato ma ha fumato perché io l'ho fatta fumare perché io ho voluto testarla fino all'estremo e perché io ho voluto provare a togliere le bolle scaldandola più del dovuto alla fine come vi ho sempre detto e vi ho fatto vedere basta scaldarla a bagnomaria in un recipiente che abbia dell'acqua a 45 gradi la resina non fumerà ovviamente se voi lasciate la resina a bagnomaria automaticamente la resina prima o poi si induirà Andrea mostrami quel mescolatore che è sempre interessante questo mescolatore caro Andrea non è altro che un set di coltelli di bambù comprati da Oshan in offerta a 12 centesimi siccome non avevo palettine a quel punto mi sono comprato questi e per 12 centesimi ne hanno dato un bel pacco guarda te li faccio pure vedere me ne sono comprate una scorta fino a quando divento vecchio vedi? ovviamente come vi ho già detto non è il metro migliore perché se non volete le bolle non ci mettete le bacchettine di legno piene di fessure ma siccome questa resina andrà sui 2-3 millimetri le eventuali bolle noi le scoppiamo con una fiamma e non abbiamo nessun problema rispondo ciao Cody ciao Alessandra se nel frattempo fate qualche domanda e io ho il piacere di rispondervi non vi rompo le scatole facendovi guardare la mescola quindi dicevamo se la resina fuma è colpa nostra se la resina fa le bolle è colpa nostra se la resina viene morbida è colpa nostra quindi alla fine la colpa è sempre nostra è inutile che noi ci andiamo a scervellare pensando che la resina sta funzionando male tranne che non sia scavuta da 10 anni messa a casa o che non avete buttato un chilo e mezzo di colore in 50 grammi di resina il problema non accadrà sì Andrea è più maneggevole dei bastoncini il problema come tu ben sai è che è poroso e quindi io la uso in questo caso perché non ho problemi di bolle perché non me ne frega niente visto che il tipo di lavoro che andrò a fare è un lavoro artistico di basso spessore altrimenti io consiglio a tutti di comprarsi una bella palettina di quelle che usano nei colorifici per mescolare le vernici e vi assicuro che è la migliore soluzione parliamo di eventuale bollizione io la ho la mano messa qua la resina è fredda è ghiacciata vediamo un attimo Rosaria questo tipo di resina resina dell'acqua nel pentolino è a quanti gradi allora Rosaria niente pentolino apri il rubinetto dell'acqua calda di casa tua appena è tiepida la metti in un pentolino ci infili dentro il tuo bel bicchiere e inizi a mescolare ma non lo fare con l'Art Pro che è una resina artistica che per lavorare deve essere densa altrimenti quando andrai a colare il tuo colore arriverà fino al pavimento e non otterrai l'effetto che devi ottenere quindi allora allora Cody sei pronto per menare la taragna la taragna io so cos'è perché me l'hai detto ma gli altri non lo sanno quindi quando faremo questo mega incontro nazionale tu portare la taragna e io cucino qualcosa di siciliano dai allora abbiamo detto penso tutto su questa resina rapporto 170 una resina ad altissima viscosità ve lo faccio vedere che ci permette l'utilizzo su qualsiasi superficie non in verticale per favore non esageriamo in verticale ci sono altre resine delle quali io non vi parlo perché non le lavoro allora andiamo a noi abbiamo preparato le nostre resine facciamo finta che abbiamo mescolato per i nostri tre minuti anche se in realtà non è vero ma io non ho tenuto il tempo cosa dobbiamo fare adesso adesso ci servono i contenitori per tutte le nostre resine pigliamo i nostri contenitori che abbiamo qua li piazziamo tutti qua belli puliti e andiamo a scegliere i colori io ho davanti a me i pigmenti Sara ne ho una quindicina poi ho i pigmenti per artisti scusate che sono questi di qua e ho oro argento e bronzo poi ho i color fun ora ditemi voi quale colori preferite vedere perché io sono qui per far sì che voi vi rendiate conto del prodotto quindi potete scegliervi voi i colori scegliete voi i colori che volete che io metto nei bicchierini così possiamo lavorare tranquillamente i prodotti nessuno parla non volete scegliere i colori a questo punto li scelgo io e poi qualcuno mi dirà come l'altra volta hai unito i colori troppo scuri non dico chi è è stata Cody facciamo così ok diciamo che questo l'abbiamo fatto andiamo avanti con gli altri ma sono finite le domande o non le vedo io o siete tutte a guardare allora vediamo un po' ah non sono finite ciao Agostina ciao è diventato un blocco unico eh Patrizia di che blocco unico stai parlando qua io non ne vedo blocchi unici io vedo della resina che scende nei bicchieri è il mio cane che abbaia allora andiamo su vediamo poi se l'acqua del rubinetto calda eh sì ma non molto calda Cody come vi ho già detto altre volte non esagerate perché la resina va in eccesso di catalizzazione e praticamente vi si vi si chiude all'interno del bicchiere vi rimane lì allora Sara giallo vediamo un po' adesso facciamo una cosa proviamoci davanti questi bicchieri che sono abbastanza di comandante ci diamo una pulita un attimo le mani e cerchiamo di andare avanti mi date conferma che si vede il tutto per favore perché qualcuno mi dice che non si si era bloccato datemi conferma per favore che vedete il tutto in maniera che io possa andare avanti tranquillamente ora si vede Cody mi confermi che si vede il tutto per favore in maniera che siamo sicuri di non fare mezza live ok perfetto ci si è perfetto perfetto mi è arrivato un messaggio che non si vedeva quindi vi ho detto colori Sara vediamo i colori Sara e vediamo un po' gli effetti che possiamo fare allora quindi quindi colori Sara io prenderei questo perfetto Andrea grazie io prenderei questo Sara poi prenderei questo di qua che dite adesso mettiamo questo penso che ci siamo scusate ma c'è un problema tecnico eccomi riuscite a vedere penso di sì andiamo avanti purtroppo qui siamo in garage a volte impazzisce rossofuoco purtroppo non ce l'ho però possiamo utilizzare questi di qua visto che c'è una richiesta di rossofuoco accontentiamo dopodiché io volevo utilizzare questo azzurro vediamo se vi piace sì Cody è lo scotch perché mi stava cascando il bastone dei selfie quindi visto che te ne sei accorto mi stai accusando davanti a tutto grazie Cody sei sempre gentilissima poi prendiamo questo che no già ce l'abbiamo prendiamo questo di qua vediamo un po' la bellezza vedi delle live è che sono fatte così in diretta e che quindi può cadere qualsiasi cosa ma noi ce ne freghiamo perché alla fine ci divertiamo poi mettiamo anzi poi mettiamo direttamente pigmenti artistici facciamo così Cody cosa non ti piace non è a fuoco sicuri che non è a fuoco allora pigmenti artistici ne prendiamo un po' e mettiamo qui l'oro che era molto bello poi mettiamo bronzo e vediamo un po' cosa altro possiamo mettere e poi mettiamo l'argento ricordatevi sempre di non eccedere con le quantità ragazzi vi giuro ho fatto tutto io riesco a vederlo perfetto non c'è nulla che possa fare non c'è niente sulla camera la camera è pulita va bene io vado avanti ragazzi speriamo bene iniziamo a mescolare i nostri colori così ci portiamo avanti altrimenti veramente come dice qualcuno si solidificano e abbiamo finito quindi mescoliamo i nostri colori io utilizzo per velocità una stessa bacchetta per tutti altrimenti non finiamo più quindi questo l'abbiamo fatto mescoliamo il blu mescolate bene i colori specialmente i Sahara così vengono ben bene mescoliamo gli altri quindi abbiamo utilizzato i pigmenti Sahara e abbiamo utilizzato i colori per artisti e poi un color fan rosso che voleva Sonia l'audio è perfetto è la distanza purtroppo il tavolo è piccolo ma la prossima live la faccio su un mega tavolo e stavolta di faccia così vedete la mia brutta faccia vi spaventate non vi collegate più allora andiamo con il bronzo bellissimo è fantastico quindi dopodiché con loro i Sahara sono in polvere sì sono delle nicche fare una live col telefonino ha giustamente i suoi vantaggi e gli svantaggi gli svantaggi sono quelli che quando vi arriva un bel messaggio whatsapp vi si blocca la live dovete scegliere se uccidere chi vi ha mandato il messaggio o fermarvi e siamo al secondo messaggio ragazzi io sto odiando anche il telefonino ma purtroppo le live si fanno col telefonino o col computer di casa quindi questo di chi era questa è di Sonia eh sì perfetto non fate quello che sto facendo io perché io sto mescolando in velocità non è una cosa bellissima ve l'assicuro il lavoro l'ho fatto bene però non vi posso tenere qua due ore a vedere me che mescolo già vi faccio i video della lucidatura che durano 15 minuti vi annoiate e continuano arrivare i messaggi mannaggia chiesto io allora l'ultimo che ci è rimasto era questo perfetto adesso mettiamo le nostre tavolette e andiamo a mettere i colori sulla tavola come vedete io non ho usato il nero perché ce l'ho già come fondo ci sono due modi per utilizzare questo tipo di colori adesso vi faccio vedere un attimo il fruit painting nasce come tecnica di pittura esclusivamente con i colori è stata poi modificata da noi da noi dagli utenti non siamo nessuno è stata poi modificata e ci abbiamo messo di mezzo la nostra bella resina perché l'effetto della resina è un effetto molto bello allora come si può agire in due modi si prendono i bicchieri con la resina si mettono in un unico bicchiere anche perché non si mischiano dopodiché si prende il bicchiere grande si appoggia si gira tutto insieme si alza pian piano il bicchiere e i colori vanno a muoversi il pezzo viene poi preso e man mano che si gira e si ruota nascerà un effetto legato al posizionamento dei colori all'interno del bicchiere un altro metodo che viene utilizzato è quello di mettere i colori e sparare sopra l'aria aria calda aria calda o fredda che sia basta che spinge come quando si fa l'effetto l'effetto quindi abbiamo detto noi possiamo fare due cose o prendiamo i colori e li buttiamo qua sopra li possiamo benissimo buttare sopra possiamo in qualche modo vediamo se riesco a illuminarvi un po' meglio quello possiamo buttarli sopra possiamo decidere di fare dei giochi di colore e come voi potete vedere adesso vi farò vedere perché farò un macello una volta che noi andiamo a muovere la tavoletta i colori si muoveranno e l'art pro si Laura guardate un po' come potete ben vedere i colori stanno muovendo e il terrore in me sale perché ora mi finirà tutto per terra avete visto? quindi si crea un effetto un effetto scelto da noi ovviamente più colore mettete più veloce a scendere dopo di che una volta creato il nostro primo effetto si riappoggia la tavola e si continua e si continua con gli altri colori quindi per esempio adesso andiamo a mettere su l'argento e andiamo a mettere una goccia di dorato così proprio una goccia vi ripeto la frase iniziale non sono un pittore non sono un artista guardate un po' potete benissimo far fare alla resina quel che volete voi ovviamente più veloce lo muoverete più i colori si uniranno e più vi creeranno l'effetto che volete voi a questo punto potete anche fermarvi sembra un bambino nel grembo della mamma scusate l'associazione ma mi è sembrato questo potete fermarvi prendete la vostra bella asticella e io ho perso metto io un'altra la vostra bella asticella e giocate con i colori giocare con i colori anche perché avete tutto lo spazio per farlo quindi una volta che voi giocate in questo modo con i colori vi siete garantiti una miscela di colori che poi mossi vi daranno l'effetto che voi volete quindi qui ragazzi la fantasia si muove la fantasia è vostra scegliete voi cosa fare come vedete si stanno muovendo possiamo continuare possiamo continuare unendo altri colori a quel punto sta a noi decidere la quantità di colori ovviamente non esagerando ci garantiamo sicuramente un effetto più forte vi faccio vedere una cosa metto tre gocce di colore rosso in tre punti diversi a quel punto al posto di andarlo a muovere io gioco soltanto con il colore rosso creando una specie di fiore quando andremo a muoverlo guardate qua quando andremo a muoverlo possiamo anche decidere che fine fa questo fiore se deve allungarsi o se deve restare con me guardate quindi la viscosità di questa resina vi garantisce di poter fare qualsiasi cosa qualsiasi forma qui spazio alla fantasia a mille fate quello che volete nessuno vi limita ma proprio in nessun modo potete fare qualsiasi gioco di colore qualsiasi cosa non c'è proprio nessun limite alla fantasia qui tutti diventano bravi tutti diventano artisti e tutti si possono mettere a giocare con i colori quindi il nostro bambino che era poco fa nel grembo della mamma è nato e noi adesso ci divertiamo a fare altro guardate Codi ti spiace buttare questa resina va bene ti spedisco il quadro guardate un po' ovviamente un'altra cosa che vi dico di fare è quella una volta finito il vostro quadro artistico pigliate la vostra palettina o ancora meglio il vostro dito e lo passate sui bordi in maniera che lo chiudete e lo completate completandolo la resina non avrà un bordo superiore e vi siete garantiti una tenuta del vostro quadro ovviamente pareggiate eventuali mancanze di resina basta anche passare il dito basta questo e come vedete il nostro quadro è stato finito adesso visto che la resina c'è e me l'avete fatta consumare con immenso piacere da parte mia ne facciamo un altro così consumiamo il resto un attimo solo che poso il primo ed eccoci qua col secondo complimenti a che a che ho sporcato tutto il piano da lavoro Sonia vediamo se riesco piano piano ad alzare poco poco ecco qua non ci rimasco va bene quindi c'erano rimasti i colori a questo punto sapete che vi dico uniamo i colori insieme e vediamo un po' che esce fuori così i nostri bicchieri li finiamo vediamo un po' lo so che non è bello vedere la resina sprecata però qualcuno lo deve pur fare altrimenti non vediamo niente mi sacrifico io per voi più che altro si sacrifica il resin pro per voi visto che la resina me l'hanno gentilmente fornita vediamo qui cosa abbiamo e se mi resta resina sono rovinato perché non ho dove metterla Cody va bene ti spedisco il quadro promesso quindi questa l'abbiamo finito questo anche li possiamo levare questo è finito anche questo pure e li possiamo levare facciamo spazio questo è finito pure e lo possiamo levare cosa abbiamo qua vediamo un po' facciamo i nostri giri di colore lo facciamo scendere lo possiamo anche passare con le mani nessuno vi vieta di prendere i vostri bei guantini non fate come me a mai nude e passate il colore con le mani è qualcosa di bellissimo è una sensazione stupenda perché è molto proprio molto viscoso quindi con le mani potete fare qualsiasi disegno guardate qua quindi una volta fatto il disegno con le mani se avete altra resina come me da buttare stasera potete benissimo utilizzarla allora vediamo abbiamo questa che mi piace molto possiamo fare qualcosa vediamo un po' la prima che ride si garantisce che non faccio più la live che dite? non mi chiamo giotto però facciamola scendere un po' avete visto? ragazzi e ragazze penso no Anna il supporto è una tavoletta di legno sono trasparenti fino a quando ne metti poco altrimenti diventano meno trasparenti come tutti i colori Laura tu lo sai benissimo se messi in dosi eccessive vanno a colorare tranne tranne i i vitrail Michela Van Gogh non studiava a casa mia io ti ringrazio vediamo un po' qui che abbiamo combinato allora qua eravamo posto pure qui vediamo un po' di sprecare un altro po' di colore così almeno siamo tranquilli nessuno ci dice che siamo tirchi vediamo un po' che abbiamo qua allora ovviamente penso che sia sottointeso il fatto che il piano deve essere perfettamente in bolla e non potete mettere il piano coricato altrimenti addio ogni colore che metterete finirà per terra allora lasciamolo fermare la resina si ferma pareggia la superficie dopodiché lo possiamo anche vedere quindi qua ricordatevi sempre di andare a chiudere evitate di mettere le mani qua perché poi il segno resta se voi non lo girate quindi le mani mettetele qua sui bordi vi garantirete che il pezzo gira tranquillamente e la resina rimanga perfettamente in bolla che dirvi Monica grazie a te io penso di aver finito però mi aspetto qualche domanda da parte vostra non perché me la dovete ma perché sono qui per questo quindi mi farebbe piacere i cori fantastici sì Patrizia sono bellissimi io sono innamorato dei Sahara quindi penso che a breve mi faccio una scorta anche degli altri dei fluo e di tutti gli altri a breve mi arriveranno tutti pinada così iniziamo a fare l'effetto Petrish e l'effetto fumo che è un'altra cosa che tutti tutti volete vedere e io sono ben lieto di accontentarvi per il resto vediamo un po' che cosa abbiamo da queste parti visto che questa tavolozza mi era rimasta un po' abbandonata sapete che vi dico gli faccio sopra un'altra comata aspetta eccomi qua ecco qua la tavolozza che ho fatto la volta scorsa visto che mi è sembrata molto abbandonata a questo punto ci butto su quel che mi è rimasto ed è uno ed è due e la facciamo muovere grazie Mario il risultato finale non è merito di un artista è merito di uno che prova le cose io come dico sempre non faccio il pittore faccio il tester quindi cerco un attimino di verificare le proprietà dei prodotti perché se ne parlo devo essere sicuro di quello che dico altrimenti fare la fare la figura di quello che parlo a Vanvera non mi piace chi mi conosce sa cosa mi piace fare e come mi piace agire quindi vediamo un po' che riusciamo a fare diciamo che questa l'abbiamo pure completata ci siamo garantiti anche di fare questa abbiamo qua un po' di resina e la mettiamo tanto ora si pareggia da sola e abbiamo finito ultimo tocco finiamo la nostra resina oro che è quella che mi piace di più sì Daniele Daniele se vuoi utilizzare una tela sei costretto a dare un fondo perché se no corri due rischi con la tela il primo è quello che devi dare un fondo in maniera quasi obbligatoria devi plastificarla quasi il secondo è quella che siccome la resina ha uno spessore praticamente Codi smettila di dire queste cose ottimando tutti i quadri a casa il secondo problema Daniele è legato al fatto ciao Antonella che la resina è pesante e anche 2-3 mm al centro fa pancia quindi rischieresti di rovinare il tutto allora abbiamo messo il nostro bel dorato che io adoro anche se Codi sta provando a farsi mandare tutti i quadri a casa non ci riuscirà tanto quanto poi diventa scuro spadesce tutto ok accontentiamo Codi per favore se no mi tocca fare una spedizione gigantesca ecco qua Codi questo è per te ragazze io ragazze e ragazzi io dico sempre ragazze perché la maggior parte siete donne i maschietti diciamo che siamo in minoranza in questo settore però è sempre meglio pochi ma buoni quindi accontentatevi cerchiamo di cercate un attimino di vedere se posso aiutarvi in qualcosa ditemelo sarà un vero piacere aiutarvi ed io che volevo spiarti ma perché devi spiarmi Antonella tu collegati a non mi spiare stai tranquilla lo vedete che divertimento è come fare quelle cose mandala che fa la nostra una delle nostre amiche quelle cose bellissime su tela basta fare un passaggio e io dico bianco brava Natalia il problema della tela Natalia conferma se sbaglio e smentiscimi per favore se sbaglio perché non ho motivo di di voler dire stronzate il peso della resina sulla tela rischia di creare una si si può soffiare con l'aria di creare una pancia grazie Nicolo la teca del buco nero non l'ho ancora sperimentata no Laura non riesco a smettere vorrei stare con la sera a giocare con la resina e con i bambini sulla sabbia sarà che ho dei ricordi non avrò fatto bene l'asilo e quindi vorrei restare qui fino a quando mi si appiccicano le mani al qui al piano va bene ragazzi visto che ora il video è finito e voi mi state pigliando in giro a me fa molto piacere comunque perché vuol dire che state bene con me stiamo bene insieme io vi saluto anche perché devo levare sto schifo qua inguacchiamendo detto in diletto perché non ce la faccio più statemi bene spero di le buone tele hanno assi al centro sicuramente hanno l'assi al centro ma quelle che ho visto io sono morbide trovere troveremo quelle con l'assi al centro Natalia promesso ora io spero di potermi lavare i guanti se no non posso spegnere il cellulare mi sentirete gridare fino a quando non pulisco tutto vi abbraccio tutte ciao a tutti ci vediamo ce ne vediamo vedendo penso che in settimana ci sarà un'altra live con Matteo in ogni caso a me piace fare le sorprese quindi ve lo dico un'ora prima e dopo spunto ciao a tutti e a presto ce l'ho fatta va bene un attimo solo facciamo terminare la live ciao a tutti ciao Laura ciao Sonia ciao a tutti Codi non sei stato invadente tranquillo ora ti mando tutte cose il guanto se volete lo lasciamo con la resina prego Rosaria lo lasciamo così lo facciamo indurire e poi lo mettiamo in un'opera ciao ciao